Musica E' proprio il caso di dire che il nostro viaggio all'interno di Più Libri Più Liberi stavolta è atterrato, nel vero senso della parola, in uno stand dove si parla anche di viaggio con il libro di Yamanouk, Mato Grosso, dove per la prima volta l'autore francese della trilogia di Yerul Degger ci porta in un altro paese, ci porta in giro da un'altra parte del mondo. Benvenuto Yann. Buongiorno. La mia prima domanda naturalmente riguarda la scelta di spostarsi in giro per il mondo, di portarci per la prima volta in Brasile, un paese mitico, magnifico, stupendo, dove ambientare questa storia. Perché questa decisione? Perché mi piace scrivere libri in paesi dove io ho amato viaggiare. Il Brasile è un paese dove io ho fatto un grandissimo viaggio di 27 mesi alla fine degli anni 70, 13 dei quali nel Mato Grosso. Sono molto invidiosa, io ho vissuto in Brasile, sono molto invidiosa di questo viaggio splendido. E quello che mi incuriosisce, che penso incuriosirà anche chi segue i social di Più Libri Più Liberi e vuole venire a scoprire questo libro, è come si pone con il tema della fiera, il nuovo umanesimo, l'abbattimento di tutte le barriere del mondo e il riconoscimento di una nuova umanità. La cosa che mi interessa è scrivere dei miei viaggi. Io non sono uno scrittore che viaggia, sono un viaggiatore che scrive. E ogni volta che io viaggio e che scrivo sfocio su un nuovo tipo di umanesimo. Questo che mi interessa. È una definizione bellissima questa del viaggiatore che scrive. Prossimo viaggio dove? Non lo so ancora, il prossimo libro, lo posso dire. C'è in Francia un libro sull'Islanda, c'è anche un libro sull'America. Le due sono l'inizio di una trilogia, dunque due trilogie, e dopo una saga istorica sull'Armenia. E questi sono i viaggi da scrivere. Dopo i veri viaggi, non lo so, sì, la Patagonia, Patagonia in febbraio, sì. Patagonia dalla parte argentina e dalla parte cilena. Mi sembra un bellissimo programma. Sì, sì, bello. La vita è bella quando si viaggia. Ringraziamo Yamanouk per il libro Motogrosso pubblicato da Fazzi Editore. Grazie per essere stato con noi e buono a più libri più liberi. Grazie a lei, grazie. Grazie a lei.